Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special, eccoci qui di nuovo con il green screen pronti per questa 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata Ok, siete pronti? E a tal proposito molti mi hanno chiesto ma quando apre il mercato di riparazione nella nostra lega pubblica su Fanta Paz? Beh appunto dopo questa giornata, quindi finito il girone d'andata ci sarà il mercato, poi riaprirà dopo altre 9 giornate, quindi mi raccomando sfruttatela, restate sintonizzati attivando la campanella in modo tale che non vi perdete il video apposito sul mercato che farò in settimana, anche perché vi darò alcune dritte per i Fanta Calcio, questi fatti a quotazione, quindi ne parleremo un po' insieme quindi mi raccomando sintonizzati, lasciate come sempre un bel like e prima di scrivere qua sotto i commenti per i dubbi e tutto, guardatelo il video perché oltre all'analisi di ogni partita che quindi vi darà dei Fanta consigli, a fine video andrò a rispondere a un po' di ballottaggi che avete inserito all'interno dell'applicazione Fanta Ballottaggi un'applicazione utile per i Fanta allenatori perché in questo modo vi potete scambiare alcuni appunto consigli, avete qualche dubbio, lo inserite all'interno dell'applicazione voi rispondete ai dubbi degli altri e gli altri risponderanno ai vostri dubbi, sia per quanto riguarda lo schieramento della formazione sia per quanto riguarda degli scambi soprattutto, infatti poi ci saranno altri video sul canale sugli scambi al Fanta Calcio utilizzando appunto l'applicazione, quindi mi raccomando utilizzatele, inserite i vostri dubbi all'interno dell'app e anche per degli acquisti poi da fare per l'assa di riparazione, c'è veramente di tutto e lo vedrete appunto anche a fine video vi ricordo il nostro store, lo trovate comunque nelle schede e anche nella descrizione, così come trovate i miei social ed altri link utili come quello del canale Telegram e adesso andiamo ad analizzare questa giornata di Serie A si parte ragazzi con Parma, eh sì, con Parma, che sto a dire, con Cagliari Milan partita sulla carta complicatissima, perché? Perché in teoria abbiamo un Milan veramente in crisi cioè un Milan che ha bisogno assolutamente di punti, ha fatto una brutta prestazione contro la Sampdoria in casa ci si aspettava una reazione, comunque con l'arrivo di Bremovic non c'è stata il Cagliari però viene anche da una sconvitta, tra l'altro contro la Juventus, pesante, per 4-0 e quindi ha voglia di riscattarsi un po'. Che tipo di partita mi aspetto allora? Mi aspetto un equilibrio dal punto di vista agonistico, ok? Con qualche anche forse cartellino di troppo e in più però a livello di gioco mi aspetto un Cagliari che giochi meglio soprattutto con quei centrocampi e sei attaccanti che si ritrova potrebbe effettivamente mettere in difficoltà il Milan quindi a livello di pronostico mi aspetto un 1-1 o 2-1 del Cagliari spinto anche dal proprio pubblico però attenzione alla difesa la difesa del Cagliari potrebbe subire un po' la presenza di Bremovic ecco, potrebbero commettere anche questa partita qualche errore a livello di giocatori schierabili i centrocampisti del Cagliari, soprattutto i vari Nainggolan ma mi ispira molto Nandez, attenzione anche a lui secondo me vanno schierati, così come Gio Pedro non si può lasciare fuori invece è un po' più difficile scegliere i giocatori del Milan da schierare vado semplicemente su quelli più forti, quindi per ogni reparto Hernandez non si lascia fuori Buonaventura può essere un buon nome scommessa per questa giornata Eddie Bremovic Suso, ragazzi, invece è veramente sembrato appannato quindi se avete alternative valide potete anche lasciarlo fuori la vostra decisione può essere basata anche sulla formazione ufficiale che sarà disponibile appunto poco prima della partita quindi potrete capire se Suso è dato titolare quindi potete effettivamente dargli una sorta di chance però sinceramente non mi sembra informissima, ragazzi si può anche lasciare fuori i portieri sono buoni in ottica modificatore ma potrebbero subire almeno un gol entrambi passiamo invece al Lazio-Napoli uno dei big match di giornata attenzione perché tornano dalla squalifica Luisa Alberto e Lucas Leiva però non è detto che la Lazio che tra le due squadre è quella più in forma avrà la vittoria porterà a casa la vittoria perché ho la sensazione che il Napoli potrebbe fare una buona prestazione dal punto di vista offensivo e migliorerà anche un po' di concentrazione dal punto di vista difensivo visto gli errori gravi contro l'Inter è proprio per questo Di Lorenzo ad esempio che ha sbagliato la scorsa partita secondo me ci può stare andarlo a schierare per la difesa è buono anche il nome di Acerbi in ottica modificatore è sempre un nome positivo mentre a livello di centrocampisti vado un po' su qualche scommessa infatti Zelitsky mi è sembrato quello più in palla più in forma nel centrocampo del Napoli anche contro l'Inter quindi secondo me ci può stare andarlo a schierare mentre dall'altra parte abbiamo un Luisa Alberto riposato e va schierato gli altri possono forse andarsi a prendere un cartellino Milinkovic ci sta a schierarlo ma non mi aspetto chissà cosa da lui per quanto riguarda invece gli attaccanti ho visto bene Insigne contro l'Inter è stato uno dei migliori anche colpito da una travesta su punizione ci può stare forse appunto andarlo a schierare insieme a Milink entrambi possono essere schierati altro nome scommesso per questa giornata potrebbe essere Calleone che la scorsa partita ha fatto un assist col classico schema sul secondo palo ecco questo schema potrebbe effettivamente portarlo al gol magari se dovesse scappare soprattutto a Radu una scena che mi sto immaginando invece è Radu che appunto atterra Calleone quindi calcio di rigore battuto da Insigne Immobile ovviamente non si lascia fuori forse potete decidere se lasciare fuori Caisette o Correa ma quello dipende dalle vostre alternative passiamo invece ad Inter-Atalanta altro se vogliamo big match perché l'Atalanta è uno dei migliori il migliore attacco della Serie A mentre abbiamo l'Inter che è una squadra ormai ben rodata ha battuto 3-1 il Napoli al San Paolo quindi diciamo che è un momento veramente di forma clamoroso e chi sarà secondo me il protagonista del match? la partita secondo me la chiave della partita sarà Martinez cioè il modo in cui i terzi cioè i difensori centrali oltre che marcare Lukaku stanno attenti all'Otaro Martinez che è veramente una scheggia impazzita dell'Inter quindi molto secondo me si giocherà da questo punto di vista a livello di pronostico la butto lì potrebbe essere una partita ricca di bonus quindi un 2-2 o un 3-2 per l'Inter quindi forse appunto gli unici da evitare sono i difensori centrali sia di una che dell'altra squadra ma soprattutto quelli dell'Atalanta e forse se avete alternative valide potete anche lasciare a riposo i portieri per quanto riguarda il centrocampo potrebbe esserci qualche cartellino vado un po' su un giocatore che la scorsa partita ha giocato pochi minuti ovvero Sensi è solo subentrato potrebbe essere confermato questa partita mentre Freuler e Derun hanno fatto bene la scorsa partita uno con l'assist e l'altro con il gol forse questa partita possono essere messi diciamo in disparte perché potrebbero essere vittime di qualche ammunizione potrebbero prendere dei cartellini invece Gomez e Ilicic dovrebbero essere i protagonisti sono invece curioso di vedere come finirà il ballottaggio Muriel con Pasalic e Zapata secondo me Gasperini potrebbe anche cambiare le carte in gioco e non giocare con l'attaccante con appunto Muriel ma con un centrocampista in più ovvero potrebbe essere Pasalic e poi nel secondo tempo Malinowski il mio consiglio ragazzi è se nel vostro contacalcio non avete tantissimi campi non rischiate e andate su giocatori che hanno la titolarità certa a livello di Martinez e Lukaku ovviamente vanno schierati mentre un nome scommessa interessante potrebbe essere quello di Candreva che però dovrà stare anche attento in fase difensiva alle spinte di Gosens che è un giocatore sempre pericoloso passiamo invece ad Udinese e Sassuolo qui abbiamo la squalifica di Berardi e anche di Locatelli se non sbaglio sì mentre Duncan è acciaccato è un peccato perché poteva essere una giornata positiva per lui ma al suo posto chi giocherà dovrebbero giocare comunque Traore e Diuricic sicuramente e sono nomi interessanti per questa giornata quindi ci può stare andarle a schierare soprattutto se Giuricic poi gioca in attacco è molto più appetibile dall'altra parte conferma per De Paul perché comunque già ve l'avevo consigliato la scorsa giornata è andata abbastanza bene appunto assegnato mentre per l'attacco vado più su quello del Sassuolo Boga e Caputo ci stanno Boga magari in una lega più numerosa Caputo anche in una lega 8 ci sta a schierarlo per quanto riguarda il pronostico mi aspetto ad esempio un 2-1 per il Sassuolo quindi i due portieri sono buoni in ottica modificatore ma potrebbero come detto subire uno o due gol quindi state un po' attenti dipende dalle alternative che avete potete decidere di lasciarli fuori per quanto riguarda la difesa invece vado solo su Larsen per l'Udinese mentre dall'altra parte non è una difesa solidissima concedono sempre qualcosa però chi le ha a Coplos per chi mi ha ascoltato e l'ha preso in qualche asta di riparazione potrebbe essere un nome interessante la sufficienza che la può portare anche a casa passiamo invece a Fiorentina Spal partita che sa troppo di 0-0 e perché dico sa troppo di 0-0 perché questo tipo di partite che uno dice qua non segnano manco morti poi ci sono magari delle sorprese quindi io che sono una vittoria per 3-0 la Fiorentina oppure una partita 4-3 qualcosa di clamoroso beh il mio consiglio ragazzi cioè le mie sensazioni sono che la partita effettivamente sarà povera povera di bonus e quindi difensori e soprattutto il portiere della Fiorentina in teoria possono essere una buona scelta quindi Drogoski con appunto Milenkovic e Pezzella Lirola potrebbe magari spingere un po' quindi lo potete anche schierare per invece il centrocampo attacco vado sui nomi classici Castrovilli su tutti va messo Chiesa nonostante non sia in forma secondo me uno slot se lo merita ancora soprattutto ho visto l'avversario che non è uno dei più forti attenzione però adesso a dei nomi che dobbiamo osservare in vista dell'assa di riparazione o dei scambi uno è Benassi che maledetto mi ha spoilerato un po' questo tanto consiglio per l'assa di riparazione perché ha già segnato la scorsa giornata erano di quelli che vi voglio consigliare un po' particolari perché secondo me un centrocampo con Castrovilli Pulgar e Benassi è più forte di quello con Benali ok quindi vedremo come continuerà e poi un nome che ci avevo consigliato tempo fa ovvero Strefezza osserviamola ancora perché secondo me è un buon colpo da poter fare all'assa di riparazione insieme a lui forse Di Francesco può essere l'altro protagonista della SPAL ma come detto non mi aspetto chissà cosa dalla squadra soprattutto che gioca fuori casa passiamo invece a Sampdoria Brescia qui un peccato è l'assenza di Tonali perché poteva essere una giornata buona per schierarlo attenzione che è squalificato anche Cistana quindi difesa del Brescia che ha qualche buco e da questo punto di vista ne potrebbero approfittare da un lato Quagliarella e dall'altro Balotelli anche perché anche la Sampa ha qualche assenza mi pare De Paoli e Collei ecco per quanto riguarda qualche nome scommessa può essere Torregrossa che oltre a spalleggiare Balotelli potrebbe fare qualcosa di interessante mentre per quanto riguarda il centrocampo c'è poca roba ragazzi forse Romulo in una Lega molto numerosa può essere un buon nome e Yankton dall'altra parte ma non mi aspetto chissà cosa ero curioso di vedere magari in questa partita Ramirez ma come vedete ha un problema a ginocchio da valutare quindi non è detto che farà parte del match avrete più informazioni dettagliate magari sabato quindi state attenti a queste cose tra i due portieri difficile scegliere qualcuno perché le difese come detto hanno qualche buco quindi potrebbero subire qualche gol forse vado su Audero semplicemente perché gioca in casa ma potrebbe come dire subire qualche gol Torino-Bologna qui invece buona scelta quella di Siru ok potrebbe non subire gol a livello di pronostico mi aspetto un 1-0 del Toro non dovrebbe essere una partita ricchissima di bonus quindi buona scelta sia di Siru che di difensori del Torino un po' meno quella del Bologna e una cosa che potrebbe essere caratteristica di questa partita sono i cartellini quindi un bel po' di ammunizioni potrebbero esserci in questa partita non so ancora che arbitro ci sarà ma penso avrà vita difficile da questo punto di vista a livello di bonus invece Belotti va confermato come sempre anche Rigoli sa e non si può lasciare fuori mentre Verdi potrebbe essere l'uomo che magari dà più vivacità lì davanti attenzione che dovrebbe essere ristabilito Iago Falchi ma non so quanti minuti avrà a disposizione perché lo cito allora perché dobbiamo osservarlo in queste settimane per capire un po' alla stessa di riparazione cosa fare se svingorarlo se tenerlo se scambiarlo ok quindi osserviamolo un po' per quanto riguarda invece il Bologna Orsolini sembrato in forma segnato nei minuti finali della scorsa partita ma il nome scommessa che mi intriga per questa partita è Sansone essendo rigorista potrebbe magari putarla dentro dal dischetto chissà non so sta sensazione passiamo invece a Verona Genua scontro se vogliamo salvezza visto i punti soprattutto del Genua che però ha vinto lo scorso turno anche in maniera un po' fortunata se vogliamo buona scelta dei portieri sì secondo me si possono schierare sia Silvestri che Perin non mi aspetto una partita ricca di bonus potrebbe finire secondo me un 1-0 per il Verona o al massimo 1-1 ma potrebbero benissimo finire 0-0 anche questa partita difficile consigliarvi qualcuno per i bonus Pandev forse è quello più in forma del Genua gli altri sono giocatori tutti rocciose che forse non avete neanche all'asta i vari Sturaro Berani questi non sono giocatori da fan da calcio quindi sinceramente non è inutile che ci perdo troppo tempo mentre dall'altra parte abbiamo qualche nome interessante ovvero quello di Lazovic e Veloso in leghe numerose si possono schierare così come Kumbula e Ramani in difesa il nome però che mi intriga di più è Faroni che essendo appunto sulla fascia potrebbe spingere un bel po' e portarvi magari un assist invece è difficile scegliere gli attaccanti del Verona proprio perché c'è troppo ballottaggio quindi state attenti a questo rischio passiamo ad un altro big match ovvero invece Roma-Juventus partita che potrebbe essere molto vivace quindi con diversi bonus un pronostico potrebbe essere un 2-2 o un 3-2 per la Juventus quindi con diversi bonus da una parte e dall'altra ma ma mentre alcuni giocatori della Juventus è facile dire che sono schierabili come appunto Cristiano Ronaldo e vari Di Bala Pianici che è anche un ex e forse Bonucci anche se avrà un po' di lavoro sporco da dover fare in questa partita attenzione al ballottaggio accanto a lui di De Ligt e De Miral potrebbe essere ristabilito De Ligt quindi giocare a lui ma non è ancora certo mentre dall'altra parte vado semplicemente sui nomi chiave Kolarov Zaniolo Pellegrini e Zeco ma attenzione perché io li andrei a schierare consapevoli del fatto che potrebbero anche non portarmi dei bonus gli altri infatti li utilizzerei semplicemente come panchinari non li andrei a schierare perché non potrebbe essere una partita un po' difficile soprattutto nel secondo tempo quando magari la Juventus inizia a macinare più gioco magari Sarri sistema qualcosa come sempre nell'intervallo e quindi poi si mette un po' in salita per la Roma come detto state attenti anche ai due portieri buoni forse in ottica modificatore perché qualche buona parata la faranno ma attenzione perché potrebbero subire diversi gol entrambi quindi state un po' attenti Parma-Lecce invece vedo favorita la squadra di casa il Parma soprattutto dopo la brutta sconvita che ha avuto contro l'Atalanta mi aspetto una buona prestazione sia da Coluseschi buona quella la scelta di Cusca attenzione nome scommesso per questa giornata visto che potrebbe anche giocare in una posizione se schierare inglese o meno beh ragazzi secondo me ci sta dargli una chance come terzo slot del vostro attacco perché dovrebbe ritornare titolare poi sabato avrete più informazioni a riguardo però secondo me in una partita contro il Lecce in casa dopo una partita persa malamente contro l'Atalanta ci sta secondo me puntare sui giocatori della Parma compresi difensori ed anche Sepe eviterei invece tutti quelli del Lecce forse l'unico è mancoso in una lega numerosa ci può stare appunto come quarto slot del vostro centrocampo detto questo andiamo a vedere un po' i consigli ai quali ho risposto nell'app fantaballottaggi vediamo se non riesco a far danni ecco con la grafica allora 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 il primo era tra mancoso e suso qui dipende molto dalla formazione titolare ufficiale del Milan perché se sarà titolare allora si può mettere suso ma in teoria la scelta migliore per me è mancoso contro il Parma ci può stare secondo me poi questi erano dubbi di scambio che ho saltato questa era tra Dragoschi e Skorupski che sono andato a scegliere come Dragoschi ve l'ho consigliato appunto anche nell'analisi delle partite sulla carta la Fiorentina non dovrebbe subire i gol comunque al massimo un gol subito questo era un dubbio tra Belotti e Orsolini è molto più semplice perché si va sulla squadra di casa su Belotti che è anche rigorista quindi senza troppo indugi vado su Belotti poi questo era tra Troere e Verdi questo è molto equilibrato è una sorta di 50-50 in teoria Traore è un giocatore che mi ispira molto mi piace molto però sono andato su Verdi perché gioca in casa e quindi potrebbe essere una giornata positiva secondo me per il Torino e quindi per Verdi qui invece ho risposto sbagliando un dubbio di scambio ma comunque tra Caputo e Bram scegliere lo stesso Caputo per quanto riguarda questo dubbio di formazione è 3 su 5 come vedete si possono inserire dubbi anche molto più particolari con più nomi e sono andato mi pare su Nandez come vi ho detto è un giocatore che mi ispira molto sta giornata gli altri erano un po' più indecise sono andato se non sbaglio su Veloso e forse Hernani anche se qui la scelta non era entusiasmante però soprattutto Nandez mi ispira molto sta giornata contro il Milan altro dubbio di formazione sempre 3 su 5 qua sono andato su Romagnoli forse su Sabelli e Pellegrini si mi pare di si se non sbaglio si perché appunto erano quelli che mi ispiravano di più Pellegrini è stato uno dei meno negativi contro la Juventus nel Cagliari appunto qua sono andato a qualche altro dubbio di scambio comunque che invece risponderò nelle prossime settimane quindi inserite lì nell'applicazione qui sono andato su Kuzka contro Iera all'altro Ringone ma ragazzi Kuzka sta giornata potrebbe veramente far bene ora si fa espellere come sempre comunque gli ultimi dubbi qua erano sempre un 3 su 5 se non sbaglio e sono andato mi pare su Brozovic ma scelta molto difficile su Romulo come scommessa qui in teoria dovevo andare su Kurtic ma a voci di mercato dovrebbe andare forse al Parma quindi sono andato su Suso nel caso in cui dovesse partire titolare poi ragazzi ho finito così detto questo io vi auguro buona fortuna per questa giornata ci vediamo domani con il video appunto sui marcatori e poi dopo domani con la live per rispondere agli ultimi pallottaggi proprio in diretta agli ultimi dubbi che avrete nella vostra formazione ok quindi mi raccomando vi auguro buona fortuna ci vediamo in questi giorni e che di la Grammy Special è tutto ciao